Se hai una buona idea, vieni qui, perché qui hai più probabilità di avere successo che se vai da un'altra parte. La capacità di fare sistema con il territorio. Ha previsto e ha contribuito a migliorare, per esempio, le problematiche che sono nate con questa pandemia. Tecnologia molto avanzata. Velocità di reazione. Il risultato della ricerca, dell'innovazione, del contributo efficace, efficiente alla creazione di un'economia circolare reale. Tecnologia pulita. Veramente uno dei prodotti di nicchia della nostra produzione ed è, dal punto di vista anche tecnologico, molto avanzato. Le nostre macchine vanno in giro per il mondo. Sono susseguiti tutta una serie di investimenti che sono andati sia a migliorare le performance degli stabilimenti, sia a migliorare la sostenibilità e ovviamente anche per l'innovazione di prodotto. Tecnologie che hanno avuto un ruolo molto importante nella sfida al Covid. Giocare un ruolo chiave nella transizione energetica, continuando a investire nella tecnologia e nei propri prodotti. Un centro di eccellenza per prodotti altamente innovativi che migliorano sia l'impatto ambientale, la sostenibilità, sia il comfort e il benessere all'interno delle abitazioni. Abbiamo una grande autonomia sul mercato. La bellezza che ci circonda aiuta anche la capacità di pensare in maniera migliore.